Ciao, ho ricevuto una mail da Greenpeace dove mi dice che l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, motivo la plastica monouso. L'Italia è sotto procedura di infrazione perché non ha applicato la direttiva dell'Unione Europea sulla plastica monouso. Allora noi in pratica produciamo rifiuti di plastica monouso in eccesso. Qual è la maggior causa? Le bottiglie di acqua minerale che acquistiamo nei supermercati. Io non lo faccio più da due anni, da quando ho scoperto appunto il BioVital, questo apparecchio magico. Perché? Perché lo avviti a rubinetto, te lo puoi anche portare in vacanza eccetera e attraverso violite, magnete, argento massiccio, una serpentina in sequenza aurea di Fibonacci, ha la certificazione di Masaure Moto per la memoria dell'acqua, praticamente trasforma l'acqua e la rende viva e strutturata come se fosse uscita dalla sorgente. Quindi oltre ai benefici miei per le piante, per la holly, per gli animali, perché chiaramente mentre l'acqua minerale da bottiglia la beviamo solo però cuciniamo con quelle del rubinetto eccetera, oltre a questo mi permette di non inquinare più il pianeta. Perché? Perché non acquisto più bottiglie di acqua minerale da due anni. Alla fine è anche un grande risparmio, oltre che di tempo e di stress. Bene, stanno arrivando molte testimonianze, ne ho già pubblicate tante, di chi lo sta usando. Adesso vi faccio vedere quello di Carla Carfagna, che è anche un'attrice, poi Elio e Federica di Micro Green e Desiree De Giovanni. Ecco queste testimonianze sul BioVital. Ciao, io sono Carla e ho conosciuto BioVital grazie ad una cara amica. Da quando ho questo dispositivo tutti mi fanno un sacco di complimenti per la mia pelle, dicono che è super luminosa e io lo consiglio, lo suggerisco. Al di là delle creme, io dico che dovete bere acqua viva. BioVital ci regala acqua viva. Noi siamo abituati all'acqua morta delle bottiglie che inquinano tra l'altro. Invece grazie al BioVital non ci sono più bottiglie da comprare, non ci sono pesi da trasportare. È tutto molto semplice, la manutenzione è facilissima. Le indicazioni vengono fornite nel momento in cui si acquista il dispositivo. Sono molto soddisfatta. Quando bevo l'acqua mi nutro. Questo è fantastico perché ho sempre voglia di bere. L'acqua poi è fresca, è fresca. Ti dà tanta soddisfazione. Ciao, io sono Federica. E io sono Elio. Siamo una coppia di Treviso e abbiamo tre figlie. Abbiamo sempre avuto l'abitudine di acquistare l'acqua in bottiglia di vetro perché abbiamo sempre avuto a cuore la questione ambientale e non ci piaceva fare tanti rifiuti con le bottiglie di plastica. Ma la spesa, come sapete, era veramente importante. Poi l'universo ci ha fatto incontrare Simone e il dispositivo BioVital. Al primo assaggio ci siamo innamorati di questa acqua meravigliosa e abbiamo deciso di acquistarlo. Adesso sono passati ben quattro anni da quel momento da quando BioVital è entrato nella nostra vita. I benefici sono innumerevoli. Beviamo molta più acqua e abbinata a una sana alimentazione. Siamo riusciti a dimagrire più di 25 kg a testa. E poi abbiamo notato che i residui di calcare sulle pentole, sulle stoviglie, sono praticamente scomparsi. Poi nell'ultimo anno abbiamo anche cominciato ad usare l'acqua del BioVital per la nostra azienda agricola dove i nostri prodotti vengono cresciuti con questa meravigliosa acqua e produciamo dei micro ortaggi di altissima qualità. Speciale. Noi consigliamo a tutti questo investimento, anche se può sembrare costoso, ma i soldi vengono recuperati immediatamente. Sì, nel giro di un anno. Sì. E i benefici nella salute sono innumerevoli. Sì, come ti disseta l'acqua, viva, non ce n'è. E viva il BioVital. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Michele, mi rivolgo a te perché, diciamo, tu sei un mio punto di riferimento e io, guarda, faccio il video proprio con il mio BioVital e sono molto felice di questa scelta. Ormai sono due, tre, penso sia il terzo mese e che ho questo gioiello, come lo definisco, perché per me è come se fosse un gioiello. Anche perché è prezioso, ha dell'argento, l'argento sappiamo quanto è importante e quanto vale e quindi sono molto contenta dopo quasi un anno e mezzo che ho cominciato a pensarci, un anno sicuramente, e anche guidata dai messaggi che ho avuto con te e i video ascoltati grazie a sicuramente a Red Ron e a tutto lo staff insomma di BioVital è portatore. E quindi poi ho scelto e sono entusiasta. L'acqua mi piace, credo mi faccia stare bene. Non posso misurarla in, diciamo, in parametri, se non che forse, tanto come se fosse più idratata e che mi sembra quasi di dover bere di meno perché è come se fosse un'acqua più nutriente. La porto tutte le mattine anche al lavoro, è un impegno proprio che ho preso e poi la distribuisco anche alla famiglia, alla mamma, alla sorella. Per me è come fare un dono e come anche moltiplicare la sua funzione, la sua forza. E quindi, niente, la prima volta che ho fatto la manutenzione mi sentivo come dovrei fare tutto per bene, infatti ti ho chiesto consiglio e adesso diventa più automatico, insomma è tutto molto facile. E basta, sono contenta e magari col tempo, chi lo sa, diventerò anche più belle e scoprirò anche i suoi effetti. Credo che anche le piante che ho in casa perché le nutro, le innaffio con l'acqua, siano contente. Vediamo, grazie e insomma è un bel regalo che mi sono fatta. Ciao!